Continuano le straordinarie iniziative in Puglia, in particolare nel Salento, per ricordare nel centenario della sua nascita la figura di Vittorio Bodini, uno dei più significativi e originali scrittori italiani del Novecento, poeta, narratore critico, operatore culturale, ritenuto uno dei più raffinati interpreti e traduttori della letteratura spagnola. E dopo una mostra documentaria sulle vite, le opere e le relazioni artistiche del poeta dal titolo Vittorio Bodini, un uomo condannato al coraggio, aperta fino al 31 agosto presso il Mast di Lecce, un nuovo originale evento è stato pensato per celebrare l'aeropoeta futurista, nato da genitori Salentini il 6 gennaio del 1914 a Bari, ma ancora in fasce, portato a Lecce. Presentata la nuova linea di vini firmati dalla Casa Vitivinicola a Pologno e dedicati allo straordinario cantore del Sud, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra il Centro Studi Vittorio Bodini, l'azienda e il Comune di Lecce. I vini in questione che contribuiranno a diffondere il nome di Vittorio Bodini in tutto il mondo, la Casa Vitivinicola a Pologno esporta infatti i suoi prodotti in tutti i continenti, costituiscono il contenuto della nuova linea di produzione dell'azienda dal titolo Le Mani del Sud. Sull'etichetta infatti l'incipit della lirica bodiniana, nonché il disegno autografo di Vittorio Bodini, scelto come logo dal Centro Studi a lui intitolato. Alla presentazione, tra gli altri, la figlia di Vittorio Bodini, Valentina, presidente del Centro Studi, e il senatore Dario Stefano e Massimiliano Apollonio, titolare dell'omonima impresa Vitivinicola, che spiega il perché della decisione di dedicare la nuova linea di vino all'indimenticabile Bodini. Nasce dall'amicizia con Valentina Bodini, la figlia, che tra l'altro ci aveva comunicato il fatto del padre, grande amante di vino, e quindi per noi che eravamo alla ricerca di questo restyling dei nostri vini più prestigiosi, insomma il connubio è nato spontaneo, è nato naturale, quindi abbiamo pensato subito di ricreare queste etichette dei nostri principali doc, quindi il salice bianco, il salice salentino rosso, il copertino e lo squinsano, legarli a Bodini e alla sua grande passione per il vino salentino chiaramente. Vino, un universo di cui Vittorio Bodini era convinto e stimatore dunque, come racconta la figlia Valentina. Devo ringraziare l'Eda Cesari che ha avuto quest'idea e ha organizzato questo incontro, quindi ha reso possibile questo momento, questa iniziativa. Sicuramente penso che mio padre ne sarebbe stato molto contento, è vero quello che ha detto, era un amante del vino, un grande amante del vino, e quindi penso che l'idea di avere i suoi versi su delle bottiglie di vino, oltretutto pregiato, un bellissimo vino salentino, sicuramente è una cosa che gli farebbe piacere.